...e vengono offerti gli incensi, l'acqua, i fiori, che sono gli elementi della terra, quindi un'offerta al divino alla quale assistete in diretta e... ...ale Cristo. Vi chiediamo di raggiungere in mente, ora se avete questo mantra, questo mantra è antico, antico milano, 15 milano, tante grandi sali in India hanno ottenuto la replicazione spirituale, hanno trovato felicità interiore attraverso la recitazione di questo mantra, quindi vi chiediamo per cuore, insomma, una persona canta il mantra e voi potete felicitare insieme a lui, grazie mille per la vostra partecipazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.